Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arana e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la focaccia ligure. Questa meraviglia nacque nel 500 e da allora è diventata proprio un'istituzione. Fuori è bella dorata, croccante, alta al massimo 2 cm e dentro invece è bella morbida e saporita. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 640 g di farina 00, 420 ml di acqua tiepida, 10 g di miele, 10 g di sale, 10 g di lievito secco e 40 ml di olio extravergine di oliva. Per prima cosa trasferiamo in una ciotola più capiente l'acqua, il lievito, il miele, che togliamo aiutandoci con un cucchiaino e l'olio. Poi mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con un frustino. Iniziamo ad aggiungere la nostra farina poco alla volta e a mescolare con le fruste elettriche. Aggiunta metà della nostra farina possiamo aggiungere il sale e continuiamo a mescolare finché non finiamo tutta la nostra farina, che aggiungiamo sempre poco alla volta. Finita di aggiungere tutta la farina, continuiamo a mescolare il nostro composto per altri 10 minuti. A questo punto trasferiamo il nostro impasto su una teglia con carta da forno e sulla quale abbiamo messo un pochino di farina. Poi copriamo il nostro impasto con la pellicola alimentare trasparente e così com'è lo mettiamo a rilassarsi nel forno spento solamente con la luce accesa per 20 minuti. Passato il tempo stabilito, ci ungiamo le mani e facciamo due pieghe al nostro impasto. Prendiamo la parte superiore, la portiamo circa in mezzo e poi la schiacciamo un pochino. Facciamo la stessa cosa anche con la parte inferiore e la schiacciamo un po' fino a formare un rettangolo. Giriamo il nostro impasto fino a metà, proprio in questo modo e lo schiacciamo un pochino. Dopo aver fatto anche la terza piega dividiamo il nostro impasto in due parti e lo pesiamo. Dopo aver pesato tutte e due le nostre parti risultano 550 grammi ciascuna. Ora prendiamo una teglia di 40 cm per 30 che abbiamo unito con abbondante olio ci ungiamo anche noi un pochino le mani facciamo arrivare l'olio dappertutto poi prendiamo una parte del nostro impasto e lo ungiamo per bene sia sopra che sotto. faremo la stessa cosa anche con l'altro pezzo di impasto poi lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente poi lo mettiamo a lievitare a forno spento solamente con la luce accesa per un'ora e dopo un'ora di lievitazione andiamo a schiacciare il nostro impasto ma non lo dobbiamo stendere e lo facciamo arrivare a lungo tutta la nostra teglia. copriamo la nostra focaccia con la pellicola alimentare trasparente e lasciamo lievitare il tutto a forno spento solamente con la luce accesa per 50 minuti facciamo la stessa identica cosa anche con l'altro impasto ora vediamo insieme gli ingredienti per il condimento delle nostre focacce qui con noi abbiamo dei pomodorini che abbiamo arricchito con olio, sale e origano poi abbiamo delle olive verdi grandi che abbiamo tagliato a metà e gli ingredienti per la salamoia ossia 100 ml di acqua tiepida 40 ml di olio evo e 7 g di sale mettiamo il sale nell'acqua e mescoliamo il tutto per bene finché il sale non si scioglie passati i 50 minuti di riposo mettiamo la salamoia a metà per focaccia aggiungiamo anche un po' di olio nel centro poi massaggiamo il tutto aiutandoci con le mani lo facciamo arrivare dappertutto ora spingiamo con le nostre dita nell'impasto in modo che la salamoia entri anche dentro la nostra focaccia questa sarà l'impronta appunto della nostra focaccia per i condimenti noi abbiamo deciso di lasciarne una classica senza niente invece l'altra focaccia è di fare metà con i pomodorini e metà con le olive fatto ciò possiamo mettere a lievitare le nostre focacce a forno spento solamente con la luce accesa per un'ora non mettiamo la pellicola sopra le lasciamo così passata un'ora di lievitazione possiamo finire la nostra focaccia classica aggiungendo un po' di sale grosso poi le cuociamo una alla volta a forno normale 230 gradi per 15-17 minuti ossia fino alla duratura appena tirate via fuori dal forno bisogna immediatamente togliere le nostre focacce dalla teglia e metterle su una griglia a raffreddarsi in modo completo cioè sotto e sopra ora ci mettiamo un pochino di olio sopra per lucidare e noi ci rivedremo dopo ma guardate com'è venuta bene la nostra focaccia ragazzi bene ragazzi ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una focaccia è strepitosa ragazzi mamma mia è croccantissima fuori morbidissima dentro saporita al punto giusto e alta 2 cm e ora io davvero golosone come vuole la tradizione aggiungo un pochino di pesto alla mia focaccia beh che dire è stratosferica il pesto proprio gli dà quel gusto in più che la va a completare insomma ragazzi è stupenda assolutamente da provare bene ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella